L'incidente nella mattinata di domenica 13 agosto, poco prima delle 9, sulla rotatoria che interseca Corso Italia con la Provinciale 222, arriva a Rolo Canavese. Un'alcia Y, condotta da un settantenne, ha ortato il muretto della rotonda e si è ribaltato in centracorsia. Sul posto sono intervenuti la croce rossa di Rolo Canavese, i carabinieri e i vigili del fuoco di Bosco Nero. L'uomo dopo le prime cure è stato trasportato all'ospedale di Ciriè in codice giallo, non è in pericolo di vita, la dinamica è il valido dei carabinieri della compagnia di Ivrea. Grazie a tutti, grazie a tutti.